Chi guadagna di più paga di più, chi ha di meno pagherà di meno. Il ministro della salute Roberto Speranza ha deciso che cambierà il meccanismo di calcolo dei ticket sanitari. Nella bozza del DDL in materia sanitaria collegato alla legge di bilancio, le singole prestazioni mediche saranno rapportate al reddito prodotto dall'intero nucleo familiare fiscale. Numero dei familiari e le eventuali malattie croniche incideranno. L'addio al super ticket tra le misure più attese scatterà il primo settembre del 2020. Nella manovra ci sono 160 milioni di euro per tamponare una parte degli introiti mancati da questa tassa aggiuntiva di 10 euro sulle visite specialistiche e le prestazioni diagnostiche. Inserito nove anni fa in modo diversificato dalle singole regioni e in base alle fasce di reddito, il super ticket secondo l'Agenas, agenzia per i servizi sanitari regionali, è costato agli italiani 150 euro in media l'anno. Quanto al Fondo Sanitario Nazionale crescerà di 2 miliardi di euro in più nel 2020 rispetto all'anno scorso, salendo così a 116 miliardi e 400 milioni di euro e di un altro miliardo e mezzo nel 2021. La manovra prevede anche 2 miliardi in più sull'edilizia sanitaria che serviranno per ristrutturare gli ospedali e tanti presidi sanitari che sono presenti nei centri abitati minori. C'è poi il via libera all'assunzione per chiamata diretta con contratto di formazione e lavoro di 6.000 medici iscritti all'ultimo anno di specializzazione, misura per tamponare la carenza di camici bianchi nei reparti ospedalieri. Il contratto per gli specializzandi sarà a tempo determinato e la retribuzione sarà di circa 34.000 euro l'ordi l'anno, 26.000 sotto forma di borse di studio e il resto a carico del servizio sanitario. Costo dell'operazione è 50 milioni di euro. In più, fra le principali misure previste dalla nuova legge di bilancio, si segnala l'aumento delle risorse destinate alla ricerca scientifica che darà nuovi impulsi in campo sanitario. Infine, un ultimo dato, dal documento programmatico di bilancio, si apprende che la spesa sanitaria in rapporto al PIL si attesta in media al 6,6% nel quinquennio 2015-2019, era 6,5% nel 2017. Quanto alla possibile stretta le detrazioni fiscali che colpirebbe anche le spese sanitarie, è una misura per ora da approfondire. Se dovesse passare, varrebbe per la dichiarazione dei redditi del 2021, ma riguarderebbe solo l'1% dei contribuenti, quelli con i redditi più alti, che potranno dedurre solo alcuni o forse nessuna spesa medica, ma è presto per dirlo.